Amici sportivi, spero che siate al calduccio del salotto di casa vostra perché qui in studio farà freddo. In che senso? Perché parliamo di hockey sul ghiaccio, parliamo di Asiago hockey e lo facciamo in compagnia di un graditissimo ospite che ritorna qui negli studi di sport in casa, il Presidente Piercarlo Mantovani. Buonasera Presidente. Buonasera, buonasera a voi e telespettatori. Presidente, prima di addentrarci in temi di attualità, siamo alla vigilia del match contro il Cortina, parleremo di campionato, parleremo di tutta quella che è la situazione legata a sponsor, mercato, covid, giocatori e quant'altro, però facciamo un piccolo bilancio di questo primo scorcio di stagione. Per noi è stato un inizio ben complicato perché di fatto abbiamo fatto una partita, dopo di che siamo rimasti bloccati per il coronavirus, con la complicazione non tanto dal fatto che per 10 giorni o 12 o 13 per qualcuno c'è stato uno stop totale, quanto dal fatto che tutta la preparazione atletica ha subito dei continui sconvolgimenti creando problemi di non poco conto su quella che è la preparazione fisica, atletica, psicologica dei giocatori. Per cui partiti fortissimo, poi difficoltà a riprendere perché insomma il coronavirus ti dà dei fastidi fisici di non poco conto. Gli strascichi non sono uguali per tutti ovviamente, ma per molti una forte debolezza, una difficoltà di concentrazione, insomma non è poi così semplice poi dopo recuperare. E poi bisogna recuperare tutti insieme, quindi anche lì abbiamo avuto i nostri problemi, ci è mancato Marco Rosa per un determinato periodo, per cui abbiamo avuto questo inizio forte, il problema del coronavirus, poi il rientro, la difficoltà di ripartire, la voglia dei ragazzi perché devo dire che nonostante tutte le difficoltà che ci sono, i ragazzi sono stati e sono veramente eccezionali, nel senso che hanno capito la situazione, sono comunque contenti di proseguire con questo campionato, sanno che tantissimi campionati hanno chiuso e noi siamo ancora lì e stiamo tenendo duro, stiamo tenendo duro perché ci sono motivi seri per tenere duro, insomma per continuare con questo campionato. E loro sono lì, stanno sforzando, stanno recuperando. Il rientro di Marco Rosa ha dato un bel segnale forte, una scossa alla squadra, lui è uno incredibile, cioè è un campione in tutti i sensi, è un campione dentro come persona, come giocatore, grandissima esperienza, trascinatore, leader, ha fatto la sua parte, la squadra la vedi, non siamo ancora al top, sicuramente non lo siamo, ma va bene così, non è un problema, noi siamo abituati, cioè siamo abituati a dosare bene le forze per tempo perché poi le forze importanti ci servono un pochino più avanti. E' un pochino più avanti, insomma, comunque Marco Rosa, come diceva il Presidente, è una di quelle figure che servono all'interno di un gruppo, al di là poi delle qualità tecniche che ha, lo avremo ospite, speriamo insomma a breve. Presidente, vogliamo però chiudere una parentesi che purtroppo nella vita di tutti i giorni rimane aperta, che è quella appunto legata al Covid, però insomma all'inizio ci sono state queste polemiche, il contagio, l'asiago, hockey, eccetera, eccetera, insomma, untori, lo sport e quant'altro. Insomma, alla fine abbiamo capito, ahimè sulla nostra pelle, che i problemi sono a 360 gradi, arrivano dappertutto, nel mondo della scuola, del lavoro, dello sport, nella vita quotidiana, ci sono esercenti, commercianti, insomma, non ci sono untori, perché poi in quel periodo lì, insomma, era montata un po' la polemica. Sì, noi diciamo che siamo stati i primi e abbiamo aperto una strada, no? Che è stata quella di un contagio generalizzato che pian pianino ha colpito tutti e sfido tutti quelli che sono stati colpiti a dirmi dove, come, quando, no? Assolutamente. Sono stati contagiati, salvo rari casi di gente che è andata a fare le feste in 60, 70 e quindi il focolario era pacifico ed evidente, ma altrimenti è impossibile, è un contagio che ha preso un po' tutti e poi lo vediamo, insomma, non c'è uno sport che si salvi, ma a parte lo sport, la verità è che non c'è neanche il mondo del lavoro che si salva, no? Assolutamente. Non c'è nessuno che si salva, tanti hanno la fortuna che hanno il sangue in un certo modo o per motivi che non sappiamo e non conosciamo, perché la verità è che siamo brutalmente ignoranti ancora su questa cosa e per cui ne rimangono fuori, ma altrimenti è facilissimo rimanere contagiati, l'abbiamo detto subito, era gravissima quella polemica montata nei confronti dell'Asiago, perché era stupida, era veramente stupida ed ignorante, l'abbiamo superata, penso che ormai sia evidente e chi ha fatto le polemiche faccia il suo o mea colpa e faccia un passo indietro. Un po' di cenere sul capo, insomma, andrebbe cosparsa. Però, insomma, adesso parliamo di alto, parliamo di attualità, perché la federazione internazionale Ok Ghiaccio è stata costretta a cancellare alcuni mondiali, se non sbaglio i mondiali senior maschili e femminili, ad eccezione della Top Division, e tutti i mondiali under 18 maschili, ad eccezione anche qui della Top Division, oltretutto gli azzurrini, avrebbero giocato ad Asiago. Quindi un altro duro colpo al sistema. Che è il secondo anno di seguito, tra parentesi. Noi quest'anno perdiamo la Continental Cup, che era la Coppa Europea, che ci aspettava di diritto per aver vinto il campionato la passata stagione, e dovevamo fare finalmente questi mondiali, con l'Italia ovviamente, prima squadra per noi, e invece sono saltati anche quelli. Di fatto sono saltati tutti i mondiali, ad eccezione di due, insomma le due Top Division, che non potevano farli saltare anche per questioni prettamente economiche. Cioè l'IHF sostanzialmente vive su questi mondiali, i diritti televisivi e quant'altro, e quindi li gestiranno in modo molto intelligente, diventava invece difficilissimo per noi gestire un mondiale, dove ti arrivavano, o anche la Continental Cup, dove ti arrivava gente da zone che era veramente in forte situazione di contagio. Quindi l'arrivo, l'aeroporto, gli alberghi, era una cosa praticamente ingestibile o quasi. Quindi economicamente per noi è stato un altro grave danno, è stato un danno dal punto di vista dell'immagine, della visibilità, perché purtroppo i tifosi che non vedevano l'ora di ritoccare i campi europei devono aspettare un altro anno. Ma ci arriviamo, ci arriviamo. Sicuramente. Oltretutto presente è spostata, se non sbaglio, anche la Supercoppa del 19 dicembre contro il Merano. Anche qui un commento? Ah, è un peccato perché il Merano ci teneva tantissimo a fare questo incontro, noi anche. avevamo pensato che per il 19 dicembre potesse essere una data buona ed utile, ma in realtà poi il campionato dove milita il Merano è stato fermato del tutto, sospeso per il momento, e quindi non stanno giocando. È improponibile una finale con una squadra che arriva assolutamente impreparata, quindi ne riparleremo più avanti, vedremo se riusciamo a farla, quando riusciremo a farla, perché poi dopo noi a gennaio abbiamo le semifinali dello Scudetto, a febbraio abbiamo le finali dello Scudetto, speriamo di avere, e poi dopo cominciano i playoff dell'AHL che andranno avanti fino alla fine di aprile, sempre che questo coronavirus ci permetta di farlo. Noi teniamo duro, tutte le squadre stanno tenendo duro nonostante le grandissime difficoltà che stiamo affrontando. A proposito di difficoltà, Presidente, colgo l'occasione di averla qui ospite per fare un po' un discorso che va a toccare anche il pubblico, gli sponsor, quindi non solo la parte sportiva ma anche tutto quello che ruota attorno all'hockey sul ghiaccio e a quello che si vede poi sulla pista. Dico quanto difficile è riuscire non solo a far quadrare i conti ma a tenere a galla un sistema che è stato veramente colpito in maniera molto dura. E non ha aiutato, perché bisogna, lo dico subito, parlano di ristori di tutti i tipi ma lo sport è proprio come non esistesse. Stiamo parlando di un capitolo che all'interno della vita sociale italiana è di un'importanza enorme, stiamo parlando di milioni di persone, ragazzini, giovani, meno giovani, prime squadre che tengono in piedi i movimenti. La nostra prima squadra permette il mantenimento di un sistema ad asiago che coinvolge 150 ragazzi più tutto il resto e più tutto l'indotto che porta. Ma se non ci rendiamo conto di questo o riteniamo che non sia importante, credo che andiamo a creare un danno da un punto di vista sociale, da un punto di vista sanitario, pazzesco. Lo sport aiuta ad essere sani, lo sport aiuta ad educare ed è mantenuto da volontari. Perché lasciamo perdere serie A e serie B del calcio o di altri particolari sport, ma stiamo parlando veramente di poco, di pochissime, una nicchia. In confronto a tutto il resto sono solo persone che ci mettono del proprio, se non addirittura dei soldi propri. Comunque di sicuro ci mettono tempo, passione, disponibilità per tenere in piedi un sistema di cui lo Stato non si è mai fatto carico, di cui gli enti pubblici non si sono mai fatti carico, se non quelli locali, quantomeno per quel che riguarda gli impianti, le attrezzature, queste cose qua, dove almeno su quello loro ci sono stati. Ma Regione? Stato? Scuola? Non ci sono. Ci siamo solo noi. Per tenere in piedi queste cose ci vogliono soldi. Ci sono degli sport che con 40.000 euro, 50.000 euro fanno la stagione, ce ne sono altri che hanno bisogno di qualche milione, ma chi glieli dà? Allora, ecco perché lo sforzo di tenere in piedi comunque un campionato, perché? Perché devi tenere in piedi un sistema. Noi abbiamo degli sponsor che sono ancora lì perché hanno probabilmente un senso del sociale, non è più una questione economica di promozione solo, perché la verità è questa, se dovesse essere solo promozione dovrebbero dire ragazzi ci vediamo, la prossima stagione, tanti saluti. Noi invece sono ancora lì che ci stanno dando una mano, non tutti, quasi tutti, quelli che possono, perché c'è anche chi non può più permettercelo di tenere. Noi per fortuna, per la maggior parte ce li abbiamo, con grosse difficoltà un po' per tutti, però stiamo cercando di tenere in piedi. Cosa manca? Cosa poteva esserci? Cosa non condivido? L'assenza totale del pubblico negli stadi nostri. Distinguiamo i problemi, un conto è dire, faccio arrivare 60 mila persone a San Siro, arrivare 60 mila persone a San Siro è impossibile, è impossibile perché significa ben più del 50% di quello che è l'accesso, l'affluenza, l'assembramento. Ma se parliamo di uno stadio da 3 mila o da 5 mila posti e diciamo, come avevano detto l'ultima parola, 15%, su 2 mila persone di cosa stiamo parlando? Di 290 persone, 300 persone, 300 persone per i quali sono già stati spesi soldi per tutta una serie di attrezzature, sono tutti controllati, sono tutti disciplinati. No, quelli non li lasciamo entrare, lasciamo entrare chiunque, senza grossi limiti alla fine, in realtà in chiesa, centri commerciali, in tutta una serie di situazioni si può andare nello stadio dove tu potresti veramente dare una mano, non li fai entrare, dove sono controllati non li fai entrare, dove sono disciplinati non li fai entrare e togli quell'aiuto economico, quell'aiuto importante che poi era un piccolo aiuto rispetto a prima. Se io prima avevo mille, mille, duecento persone di media partita, se quando arrivavano le partite importanti di Natale ne avevo 3 mila dentro nello stadio, adesso non ho niente, ma non mi aiuterò. E viene tolto anche un po' il colore, la passione, viene tolta la cornice. E i tifosi che non sono più lì, sì c'è lo streaming, stanno facendo vedere lo streaming, tutto quello che vuoi, ma essere lì, essere allo stadio, la difficoltà per i ragazzi, è difficilissimo giocare senza il pubblico. Quindi, non lo so, io se dovessi dire due parole al governo, dovessi dire due parole alla regione e dire ragazzi fate uno sforzo perché state sbagliando. Su questo state sbagliando. Come non condividere le parole del Presidente Mantovani, noi che siamo appassionati di sport come tutti voi che ci state seguendo da casa. Ahimè, il tempo a nostra disposizione questa sera è finito, la chiacchierata con il Presidente è stata quanto mai piacevole, ci ha catturato e il nostro quarto d'ora accademico, canonico, è volato via. Ma ritroveremo l'Asia Gohoky, ritroveremo il Presidente nel corso di questa stagione. Io intanto lo ringrazio per essere stato in nostra compagnia questa sera. Grazie a voi. Ringrazio come sempre, come d'abitudine, tutti voi che sempre più numerosi ci seguite e io ve lo ricordo, ma ormai è superfluo, l'appuntamento da lunedì al sabato alle ore 20 sempre qui su Rete Veneta. Grazie e buona serata. Grazie a tutti.